Sì, benvenuti sul blog GOMENTALES Io sono qui con Marco e siamo in Raiot in Napoli e benvenuti a questi artisti dal Meksico e ciò che sta succedendo avanti e magari puoi spiegare a lui stesso cosa sta succedendo? Sì, per questa occasione Marco, mio bambino di Wake Up and Dream, voleva mi invitare ma per fare qualcosa di diverso perché ho spiegato in questa area un po' prima volta Quindi abbiamo parlato di diverse progetti e ho proposto a lui se potete trovare un musicista a lavorare con un musicista, sia un percussionista o un giro di bassa e così è come si è cercato a trovare un musicista e si è arrivato a Giovanni Giuliano, che è un giro di bassa e quindi, sì, abbiamo raggiunto questo e ho stato qui in Napoli dopo tre giorni, è stato il settore, è il settore credo è il 21 settore, non so e quindi abbiamo lavorato nel studio Giovanni, per fare un nuovo piece e questo ciò che ciò presentiamo presci alla prossima e ciò ciò che facciamo avanti oppure la sessione altruzia che faremo, una sessione per minute che abbiamo una nuova struzione e ciò che faremo passare alcuni che parla dal piano di sangue naturali come al giro o albattbo a componenti melodica e aritmica e anche i miei miei musici in prima parte due parti in prima parte io faccio tutti i nuovi materiali dei miei rilassati e poi Giovanni viene dall'estate e lo vediamo oh wow hai fatto un film di film? ho fatto un film di film le due giornate i thunderstorms questo è tutto non c'è da la città solo il rilassati che è bello speriamo di venire e vedere questo film tomorrow e anche il film è speciale perché è la corte dell'ultimo castello chiamata Maschi Angerino quindi è un film molto interessante e ci si troveremo il stile anzionale 10 plus 4 il stile con il nuovo che credo è anche il tuo obiettivo sì in un modo è un modo di integrare le cose 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 sono le cose le cose sono le cose le cose le cose le cose sono le cose le cose le cose le cose le cose ma anche ho ampli la scuola per alcuni suoni interessanti, anche se non è un instrumento reale, come da qualcosa di tutto, e poi ho provato a rendere sensi e a rendere una composizione. Ok, questo è bello. Sì, anche se il mio channel è interessato alla relazione tra musica e media, io vorrei chiederti a te, come ti senti a tutti i nuovi media, se hai utilizzato? No, non troppo, non troppo. Noi ho guardato la mia Facebook, la mia web è praticamente abbandonata, e anche la MySpace, quindi ho faccio altre cose, più personali, faccio anche la famiglia, ho amato. Oh, wow. Quindi ti usi per rispondere a delle persone, ma non per... Non anche per questo, ho guardato un po' di tempo, e provo a troppo a fare la mia Facebook. ma vedo che le possibilità sono davvero semplici, come abbiamo in questo momento, la comunicazione instantanea con il mondo, ma magari in un futuro, dovrei dive più profondamente in questo, e vedere cosa posso fare. Ma in questo momento, io sono a margine di questo. Ok. Non perché sto controllo, ma solo la situazione di currento. Ma tu sei ancora in contatto, hai qualcuno che ti prepara? Certo, perché ho diventato un po' di tempo, perché ho persone che mi hanno aiutato, e posso solo focalizzare a fare musica, e non mi preoccupare troppo per la self-promotion. Ok. Quindi voglio davvero ringraziare questa piccola intervista, e speriamo di venire e vedere la tua musica tomorrow. Thank you very much, I hope people enjoy it, and it's a good night for everybody. Yeah, thanks. Thank you. And bye from Bloggo Mentale. Ciao, say hello to anyone. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato un bell'incontro tra la musica classica, l'improvvisazione e la musica elettronica. E per te era stata la prima esperienza in questo senso? Sì, qui a Napoli sì, perché vengo da una formazione non autodossa, che poi è passata da una formazione molto autodossa, accademica. E' stato un bell'incontro tra bassista e saccarlo. E' stato un po' a una serie di cose. Senti, ti è andato tutto bene nel concerto, era tutto come te visto? Sì. Non c'è stato nessuno. Decisamente, anche l'omaggio a San Cardo e a quello che è il mondo dell'elettronica come c'è stato. C'è stato un incontro tra la musica dell'opera, tra la musica operistica e l'elettronica. La riferissi? Sì. Però non c'è in programma di ripetere questa esperienza, perché in momento è una... No, invece c'è in programma. Sì, certo. Ok, allora rimaniamo in contatto, seguiremo, avremo vostre notizie presto. Comunque vi siete sentiti a vostro agio in questa atmosfera del cortile Masca Amluino, è una dimensione bellissima. Io mi sono ispirato a un pezzo di Masca Amlu, che è l'intermezzo della campagna che io scrivo, e a un pezzo di Silviare, che è il fondatore di Pink Floyd, e ad una mia canzone, anche io che mi ha registrato in un disco. Quindi queste due cose sono state gli ingredienti che mi hanno accompagnato durante il concerto, e Fernando è stato decisamente bravo nel ricongiurgemi ai suoni e nella sua musica, e quindi c'è stato questo incontro, molto proficuo e molto bello. Ok, il centro di Silviar, qual è il pezzo? Si chiama Astronomy Domain. Wow, ok, allora ti ringrazio, saluta. I nostri amici di Blog Mentale, saluto anche io.